E' chiaro che in un'ottica di elezioni regionali la naturale collocazione della Lega è nel centro-destra. Poi è chiaro che ci si sposa dopo un periodo di fidanzamento, nel senso che comunque sia occorrono che le forze politiche devono in qualche modo quagliare intorno, anche qui a un progetto, anche qui ha una proposta di cui la Regione Abruzzo e gli abruzzesi hanno tremendamente bisogno e deve essere una proposta politica importante. A me interessano le idee, interessano le proposte, interessano che comunque sia, ci sia anche qui un programma serio, condiviso, realizzabile e soprattutto misurabile e proponibile da ciascuna forza politica. Quindi cominceremo a parlare delle regionali dopo il ballottaggio. Sono due fattori che ci rendono non più, come dire, comparse, ma attori principali di questa partita al governo regionale. La prima è il dato politico del 4 di marzo. Il dato politico del 4 di marzo è un dato importante per noi. Se pensiamo che cinque anni fa la Lega in tutta la Regione Abruzzo nel 2013 prese 1.520 voti e oggi con le elezioni politiche il consenso è stato di 105.000 voti, è chiaro che il rapporto... siamo aumentati più di 100 volte rispetto al dato del 2013. Inoltre è chiaro che essendo adesso un partito di governo ha comunque, oltre alla responsabilità, anche il consenso e la credibilità per quanto riguarda il voto d'opinione. Non voglio parlare dei sondaggi perché i sondaggi poi lasciano il tempo che ti trovano, però se soltanto dovessimo guardare a questi, in questo momento la Lega a livello regionale potrebbe anche essere il primo partito in Abruzzo. Quindi potrebbe esprimere anche il candidato presidente? Potrebbe. Potrebbe. Potrebbe.